ciao e benvenuto a condo podcast la voce del condominio siamo a monte volo grizzeria morandi un santuario qui vedremo fra poco del nulle 300 la puntata viene registrata a inizio ottobre la mascherina è qui ma effettivamente non c'è nessun altro non ho ancora visto nessun altro quindi posso registrare senza però ricordati di indossare sempre ora non so questa puntata quando andrà in onda anche punto saremo nella pandemia di cosa parliamo parliamo di come si invia una richiesta d'assistenza a condomani e via generale di come si può impostare il test l'oggetto di una mail nel caso specifico quindi parliamo di oggetto in particolar modo quando si parla di oggetto di una mail questo oggetto deve essere coerente con il testo che sia una richiesta d'assistenza nei che seduto condomino altro spesso ci arrivano richieste in assistenza il cui oggetto è urgente oppure il cui oggetto è aiuto o ancora più semplicemente richiesta di assistenza se un oggetto di un email di un ticket in assistenza arriva con l'oggetto richiesta di assistenza questo non facilita però non facilita noi vabbè ce ne possiamo fare una ragione ma soprattutto non facilita te in futuro quando vuoi andare poi a ricercare delle informazioni quindi il suggerimento è quello di andare utilizzare un oggetto che sia contestuale a quello che scrivi che sia un email semplice che vai invitare vai inviare un business partner un amico o altro anche se oramai si può dire che le mail sono quasi morte o che sia una richiesta d'assistenza in più nella richiesta di assistenza quel che ti chiediamo è che ci sia un solo contenuto cioè se hai bisogno faccio un esempio di assistenza sulla sezione social un altro dubbio sul bilancio un altro dubbio sulle rate non mandare un email con richiesta d'assistenza sul bilancio poi inizia a parlare del bilancio poi vorrei anche un'altra informazione anche un'altra informazione poi ti do anche questo suggerimi do anche questo suggerimento quello che ti chiediamo gentilmente gentilmente ovviamente te ne siamo grati è quello di andare a segmentare quindi un email un oggetto con il testo e ma invi la mail un altro oggetto un altro testo invi la mail cerca quindi di dividere questo perché perché se dall'altra parte tu immagini ci sia una persona che ti risponde beh non è così ci sono più persone che possono rispondersi di reparti diversi e a volte tu fai una richiesta assistenza c'è un tutor che ti risponde o una tutor a volte fai dai un suggerimento nella stessa mail beh segue un percorso completamente diverso quindi una cosa una richiesta assistenza un'altra cosa un suggerimento e quel ticket viene poi lavorato in azienda in modi e tempi diversi verrà letto magari da più tu avrai subito magari una risposta c'è proprio il sole che mi acceca tu riceverai magari una risposta anche subito però non è detto che sia solo una persona che lo lavora potrebbero essere più persone il flusso di questo ticket appunto se ci sono informazioni diverse richieste diverse sono dei flussi completamente diversi quindi tu lancia sostanzialmente la tua bomba ma lanciane tante ogni bomba ogni mail avrà un percorso assolutamente diverso quando invia una mail c'è capitato qualcuno che per sbaglio anziché mandare un'email a info chiocciolacondoni.it la manda non so a pippo a inf chiocciolacondo.it o qualsiasi altra cosa sto dicendo un nome chiaramente a caso vediamo dietro di me visto che te l'ho promesso beh dopo la vediamo dall'altro lato è del 1300 chiaramente restaurata e che appunto dicevo seguendo flussi diversi inviene tante in modo tale che ognuna segue un percorso sia ad esempio un suggerimento verrà realizzato fra un mese un altro fra cinque anni perché può capitare ma se avessi scritto solamente tutto in un'email non riusciremo a gestire si crea del disordine quindi quello che ti chiediamo gentilmente è oggetto coerente un piccolo riassunto un po come si spiegava alle scuole e il testo inerente cerca di farci capire il più possibile se hai un problema non è non mi si aprono i bilanci non riesco a vedere un bilancio in questo condominio in questa sezione il problema è questo cosa significa usa sostanzialmente anche gli url in alto quando tu si condomani in alto c'è un link app.condomani.it slash qualche cosa troverai idc sempre di condominio e se sei nella parte contabile le idee esercizio se tu hai un problema specifica quale sia l'url o comunque dacci l'idc o l'idea in generale se tu fai copia e incolla di quello che c'è sopra è ancora meglio quindi inserisci questo poi tu dici ma io non riesco a capire nel bilancio perché alcuni escono con 10 euro alcuni con 20 anche se il problema per te poi tendenzialmente ti dobbiamo spiegare come funziona qualcosa è generalizzato dici ad esempio per il signor mario il problema è questo vedo 10 euro mentre mi aspettavo 8 euro 8 euro in questo idc in questo idee oppure in questo link questo url in questa specifica sezione cioè visto che dall'altra parte c'è una persona che deve analizzare la tua richiesta fai in modo tale che questa persona questo il tuo tutor la possa analizzare in maniera semplice ora tu potresti dire a me non frega nulla del fatto che voi siete veloci o no e in un certo senso invece sì perché più ci dai più specifichi meglio più riusciamo a darti una risposta immediata altrimenti magari dovremmo risponderti e chiederti ma di cosa stai parlando facci capire meglio tu inizia a perdere del tempo quindi specifica per favore quale sia realmente il problema è dove lo specificato facci un esempio se il problema è su una stampa non dire ad esempio beh la stampa esce male e no perché potrebbe anche uscire male ci mancherebbe altro ma non riusciremmo a correggere magari la stampa in pdf con i o noi siamo contro la carta quindi diciamo la sta potresti stampare con la stampante fare appena qualche segno scansionarla e mandarla ma ancor meglio usa un pdf un editor del pdf segni magari con un cerchio rosso dov'è il problema e ci manda un'email e ci dice guardate in questo url quindi esattamente dove tu ti trovi facciamo una camminata in questo url ho girato troppo veloce perdona in questo url c'è questo link quindi il condominio girasole oppure abbazia di montevolo ma quanto è carina questa abbazia in questa in questa abbazia nel condominio abbazia in questo esercizio 2020 che ha questi dc queste idee in questa sezione bilanci facendo questa stampa con queste specifiche opzioni esce questo pdf non riesco a capire in questa riga perché esce 10 euro mentre mi aspettavo 20 potreste aiutarmi oppure aiutatemi punto e basta quel che vuoi non fa niente il tono l'importante che ci fa capire che noi ti possiamo sostanzialmente aiutare dicevamo un discorso della mail andando un po in generale le mail a me ha intanto arrivano delle mail sempre le mail più brutte che mi arrivano sono quelle che sono tendenzialmente tendenzialmente non vorrei parlare troppo male con outlook quando rispondi rispondi iniziano esserci re 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 e la regina mi viene da rispondere che l'oggetto sia coerente che non sia tutto rispetto diciamo a quello che c'è nell'oggetto oppure magari a volte mi è arrivata qualche mail in cui come oggetto c'era il link è una delle cose più sbagliate che esiste perché il link nell'oggetto non è cliccabile e quindi tu mi mangi un link in un oggetto e poi non la riesco a categorizzare non riesco a capire di cosa parli devo prendere fra due mesi di cosa stai parlando oppure ancora più brutta c'è si parla di una richiesta di assistenza ad un'email di una problematica si risponde e finisce là e stiamo parlando di bilanci dopo due settimane mi devi andare a me a qualsiasi altra persona un'email in cui parliamo della parte social parliamo di andare a di fare un conto podcast assieme su quell'email in cui parlavamo della parte social scrivi di un qualcosa che non c'entra assolutamente nulla no è andare fuori contesto invia una nuova email a no ma facevo prima così ce l'avevo là la mail no assolutamente che sia una richiesta di assistenza che sia un'email stai attento sembrano delle cose banali per fortuna ahimè una su due mail non segue queste regole mai ecco perché in un certo senso poi le mail muoiono a favore che ne so di whatsapp o altro che utilizzo costantemente ma ci sono contesti in cui servono email contesti in cui serve un cui serve un whatsapp andato ritornando ai ticket ogni volta che mandi un'email stavo dicendo ecco mi sono perso prima hai mandato un'email all'indirizzo sbagliato stavo dicendo questa cosa e mi sono perso quando è se l'email c'è realmente arrivata se l'email c'è realmente arrivata beh la parte dell'acqua lì chiaramente non è bella però il panorama si se l'email ci arriva entro 30 40 facciamo così 60 secondi ti arriva in risposta un'email automatica dicendo ti guarda la mail è arrivata con un numero di un ticket quando ogni tanto magari ci mandi un whatsapp sentiti ho mandato un'esistenza non a me dico in generale qualsiasi per al tutor con chi parla di condomani ti ho mandato un'inchiesta d'assistenza avete risposto no guarda ti ho mandato un'inchiesta d'assistenza con id dico un numero finto 12345 noi facciamo la ricerca 12345 la troviamo subito e ti diciamo guarda ma effettivamente ti abbiamo risposto dieci minuti fa guarda effettivamente dobbiamo ancora risponderti perché dobbiamo capire qualcosa se invece ci dice ho mandato l'inchiesta d'assistenza e magari ne mandate tre e noi ne sono arrivate due non sappiamo effettivamente se c'è scritto o non c'è scritto quindi assicurati una volta che mandi una richiesta d'assistenza che ti arriva entro circa 60 secondi un numero di ticket di presa in carico a quel punto tu la risposta l'avrai ma in ogni caso è protocollata e quindi tu potrai fare sempre riferimento a quel numero di ticket anche magari fra un anno dirai Antonio guarda il numero ticket 12345 mi avete risposto male sono scontento se invece ci dice guarda quella volta ottobre 2020 mi hai risposto male sì hai ragione sicuramente ma non riusciamo a capire qual è il motivo per cui abbiamo risposto male poter migliorare quindi protocollo tra le altre cose nel sistema nostro di assistenza questo lo usano in pochi ne parlò ora velocemente vi è anche la possibilità di loggarsi sul sistema di assistenza e vedere tutto lo storico dei propri ticket è lì se hai utilizzato degli oggetti buoni degli oggetti coerenti riesci anche a trovare delle richieste vecchie effettivamente ti dico che come regola nostra aziendale se tu mandi un'email una richiesta d'assistenza con l'oggetto non carente noi te lo andiamo a modificare quindi effettivamente anche se entri troverai tutti i tuoi ticket precedenti con degli oggetti coerenti questa è l'abbazia non riesco a entrare a farti vedere nulla da dentro perché riaprirà a maggio 2021 questo secondo podcast credo che andrà in onda fra novembre dicembre 2021 però insomma sarà chiusa l'abbazia è un luogo dove si svolge un interessante via crucis c'è una foresteria molto ben attrezzata e lì a generale c'è una cura del luogo in una giornata in cui è chiusa nota è chiusa ma c'è una cura una pulizia è un relax top sarà un luogo di fede chiaramente sono luogo di fede come minimo che sia così arrivando poi in auto si parcheggia quasi a meno di un chilometro di distanza eravamo soli ora non so quando ci sarà gente quante macchine ci sono si passa anche da una zona con tante castagne ho raccolto anche un po di castagne nello spazio pubblico ovviamente e quindi questa è una nota ma dipende sostanzialmente dal periodo dell'anno come ti dicevo la vista è molto carina tornando poi al nostro podcast quindi oggetto che sia sensato nel testo una una cosa mandi più email più richieste di assistenza per più problematiche e lo stesso discorso lo applichi nelle mail classiche che mandi ad altre persone questo è un suggerimento come parola chiave visto è questa abbazia del 1300 utilizziamo una bassina di monte volo 1300 seguito da un voto da 1 a 5 per farci capire quanto ti è piaciuta la puntata un caro saluto dall'ingegnere antonio bevacqua e a quando presto e anzi no dimenticavo mascherina prima non ce l'avevo l'ho detto perché ma mascherina gel l'igienizzante sempre con voi immuni installato anche perché senza immuni non si può partecipare al condo time e quindi anche solo per quello lavaggio spesso le mani e massima attenzione distanza eccetera eccetera ripeto qui ora è inutile indossare la mascherina perché non c'è anima viva a parte con chi le due persone con cui sono venuto famiglia un bacione a tutti a quando presto